...e sarà presentato nel locale di differenze del territorio. Come i gruppi futuri, che sono soltanto le dimensioni che stiamo portando, è innanzitutto migliorare la scalabilità, implementare una parte di logica in effigente, implementare un sistema di snapshot completo, in quanto però utilizziamo solo quello per la parte dei metadati, migliorare la parte di verfinit, ...e fare un sistema di synchronizzazione di consistenza della case locale, o locale, tranne i ballback, e implementare una case in seguito. Ok, sono domande. Vorrei solo chiedere solo a rispetto alle aziende, a rispetto 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 a rispetto, ma come mai si è stato, nel senso, erano poi avuti da noi, come mai avremmo visto quale è stata quale è usata? No, adesso non è che sono le persone che sono state pensate di già specie, sono state utilizzate molte standard, è stata aggiunta qualcuna più specifica, che non ce ne avevano in nostro caso, tipo modalità admin, allowed in AI. Admin, scusi? Modalità admin, allowed in AI, un determinato file, che è in questo caso. Ah, ah, sì, sì. L'admin è la... Un determinato file? Sì, le aziende a telefono, sono collegate agli aziende, ogni ora è l'admin è tutto quello che c'era, è pensato per un'admuta di un admin per un'operazione di un'operazione che però non è stata attuale, però è stato pensato per avere più confermate possibile, quindi più possibilità di personalizzare. E' questa nostra è il modello. Vai, pelle! Eh, ma è senza sciarpa! Dopo due anni, è senza sciarpa! E' il modello. E' il modello. Append CBD, c'è la propria voce. Non se ho un po' scrivido, se lo fa parte d'aula. tigre il m5 infatti non c'è tm5 il suo collo no Ecco il tigre. Cosa vuol dire? Fantasioso quei tigre. Cosa vuol dire? 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 Grazie. 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 Oh, c'è un cazzo. Ce li leggo io, mostra signale. L'articoltura del nostro progetto... Grazie. 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 Il cliente Il cliente Il cliente L'amico di Pallara è molto interessato Il cliente 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 Grazie. 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 A Jalbi. My cool market. Grazie. Grazie.